Si chiama Allo Saione ed è un'associazione nata per promuovere e sostenere il quartiere, uno dei più popolosi della città di Arezzo e purtroppo negli ultimi anni al centro delle cronache locali. Speriamo che ci porti ad avere i nostri obiettivi prima possibile, quindi una maggior visibilità del quartiere, una maggior conoscenza delle attività che ci sono, un maggior slancio contro il degrado e per migliorare un po' tutta quella che è la nostra vita quotidiana, di tutti quelli che lavorano e vivono qui. Il quartiere di Saione è infatti un vero e proprio centro commerciale naturale con la sua via principale, via Vittorio Veneto, ed adesso vuol ritrovare la sua identità che per decenni lo ha contraddistinto. Intanto questo libro, che è il libro che racconta la storia di questo quartiere e come vedrete ce n'è tanta della storia. Quindi secondo me è bene fare questa associazione per cercare di far capire che effettivamente Saione c'è, esiste e è molto vivo e molto attivo. L'obiettivo dell'associazione è dunque quello di favorire e svolgere iniziative che valorizzino l'intera zona. Abbiamo visto anche la nostra nazionale con un progetto dove è arrivata a vincere un europeo. Noi non vogliamo questo, vogliamo solo una città migliore, aiutare il quartiere e i commercianti che vivono in questo quartiere insieme agli abitanti. Tra i soci costituenti anche l'associazione di categoria Confesercenti. Saione è la strada che porta direttamente in Corso Italia, non è periferia, è una zona centrale, moderna della città e con una ricchissima rete di commercianti, artigiani, di negozi vivi, di qualità e con operatori soprattutto molto vivaci e molto intraprendenti. La nascita di questa associazione è la dimostrazione.